Cosa sto vedendo? È tornato il brutto E super GG ragazzi e ragazze Eccoci qua in un altro video serale È fede del passato che vi parla Sto registrando questo video giovedì 18 Voi lo state vedendo ora che è venerdì 19 Poiché in questo momento sarò a Roma Quindi ora sono in Sardegna che sto registrando Ma questo video lo vedrete Adesso Domani Però per voi adesso Oh mio Dio Oh mio Dio In ogni caso sono a Roma Saluti da Roma No saluti da Sardegna adesso E raga lasciamo stare Cosa ho davanti a me Ragazzi è tornato il brutto Proprio così raga è tornato il brutto Quello che odiavamo nella lontana stagione 10 del capitolo 1 Mamma mia raga ma che è quel corvo Ma vai via Vai What? Siamo arrivati al limite Un altro corvo ma perché non mi lasciano in pace? Per ora il brutto selvaggio come viene chiamato ora a parco pacifico è stato completamente finanziato Quindi noi tutti abbiamo donato un po' dei nostri linguti per farlo tornare L'abbiamo voluto noi ragazzi Probabilmente ora che vedrete questo video altri finanziamenti di altri punti di interesse saranno completati e quindi avremo altri brutto nella mappa Tra l'altro è cambiato ragazzi non era così qua c'è una banana belli anche i colori mi piace ragazzi mi piace guida oppure artigliere andiamo a provare la guida Oh mio dio che ricordi ragazzi che ricordi Ok Ma passa sopra le ro... ok qua rompe qua rompe vediamo Perfetto Ma perché? Perché passa sopra le stazionate e rompe tutto? Vabbè Saltiamo Allora non ricordo come... suona No autodistruzione oh mio dio Ok Carica salto tieni premuto Oh mio dio Ok artigliere andiamo Che ricordi che ricordi Ok Riproviamo il salto Attenzione Mi ricordo che si può usare in due Uno guida e l'altro spara No raga fantastico Molte emot non me le fa proprio fare Vediamo questa Oh mio dio ragazzi Ma è fantastica Allora vediamo se riesco a prendere per prima io il brutto Ci sta andando già parecchia gente Ah raga sono troppo troppo alto Oh mio dio Tra l'altro lo segna anche nella minimappa E segna anche i suoi spostamenti Quindi potrete sapere dove Come fanno a essere tutti più bassi? Ma com'è possibile? Oh cacchio Ed eccoci nello shop del giorno ragazzi E vi ricordo che se volete supportare il canale Potete cliccare in basso a destra su Un supporto a un creatore E digitare Fedipia Maiuscolo minuscolo E uguale E cliccare su accetta Vi ricordo inoltre di aggiornarlo ogni 14 giorni Perché scade Tutto questo non è obbligatorio Grazie mille a chi lo farà E grazie mille a chi lo fa Intanto ragazzi E' uscita la skin Vincitore Delight E a voi piace? Ora scapo ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se siete contenti del ritorno del brutto in gioco Scusate il breve video Ma ragazzi ho veramente poco tempo E raga come sempre Iscrivetevi Lasciate Un bellissimo like Condividete il video con tutti i vostri amici E nulla Cici Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti